Questo video è un po' vecchio ma chi mi segue su Instagram sa già di cosa parlo. Stavo andando al mio laghetto in giardino per dar da mangiare ai pesci quando ho visto questa situazione stranissima. Sotto una bellissima mantide religiosa verde e invece sopra un bellissimo ragno vespa. So che per molti di voi nessuno dei due è bellissimo però per me sì. Secondo voi chi vince tra i due?